con la banda musicale dell'oronatica militare e tra queste questa fantastica banda in cui le mie spalle io ti lo perdono se in questo momento do le spalle a queste fantastiche persone e diretta da un grandissimo maestro il maestro Marco Moroni il maestro Marco Moroni il maestro Marco Moroni il maestro Marco Moroni il maestro Marco Moroni